Un nuovo centro di aggregazione giovanile gestito dalla cooperativa Progetto A insieme al Consiglio di Zona, è il terzo centro giovanile in zona 3 ed è il primo centro gestito direttamente dal Consiglio di Zona. È importante perché è un luogo nel quale ci sono spazi per l'aggregazione libera, per la socializzazione, quindi spazi proprio di relazione tra i ragazzi. Ci sono laboratori, c'è una bellissima palestra, ci sono centri di attrazione, di gioco e di divertimento, quindi un tassello in più in una Milano che cerca di avere spazi e luoghi sempre più belli e numerosi per i giovani.